Eseguiti più di 170 tamponi in giornata al drive point del Codma di Fano, quasi esclusivamente viaggiatori rientrati in città da Croazia, Spagna, Malta e Grecia con obbligo di sottoporsi a tampone. Circa 7 minuti per realizzare ogni singolo tampone, i risultati verranno comunicati entro 48 ore. L'ordinanza del governo per l'obbligo di tamponi dura fino alla 7 settembre prossimo. Intanto l'area vasta ieri è annunciata attraverso un comunicato che chi rientra dai paesi a rischio dovrà informare del proprio arrivo all'autorità sanitaria tramite segnalazione al Dipartimento di Prevenzione all'indirizzo e-mail, indicando le proprie generalità identificative, specificando in più il giorno di rientro e mezzo utilizzato. Nel caso i soggetti abbiano effettuato un tampone nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano dovranno allegare l'esito. In caso contrario dovranno sottoporsi a tampone entro le 48 ore dall'arrivo in Italia presso l'azienda sanitaria che riceve la segnalazione o presso i laboratori privati accreditati con impegnativa rossa. In attesa del tampone fa sapere l'area vasta e richiesto il rispetto dell'isolamento fiduciario domiciliare che si protrarrà fino all'ottenimento del risultato negativo del tampone. Il drive point alla Codma di Fano sarà attivo anche per la giornata di domani, mentre a Urbino resta operativa la struttura al Dipartimento di Prevenzione in località Sasso. A Pesaro si sta cercando un'altra, in alternativa a quella di Via dei Cacciatori, ma l'area vasta si è attrezzata al porto per esaminare chi rientra in traghetto dalla Croazia. I sanitari comunicano che verrà fatta anche una programmazione per la prossima settimana in vista delle numerose richieste. I casi positivi nelle Marche sono 15 su 810 tamponi nelle ultime 24 ore, 4 di questi in provincia di Pesaro e Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Per quanto riguarda il piccolo focolaio di Fratte Rosa, causato da un tirista francese, risultato positivo al virus, 4 persone del posto, il più anziano di 90 anni, il più giovane di 60, sono ricoverate nel reparto di malattie infettive con polmonite.